Buonasera Padova e Pride Village, bentrovati! Ce la faremo stavolta Padova? Speriamo, speriamo, speriamo Due parole veloci sulle volte Sì, guarda, la prima discoteca, la tercera gay dal 19 al 22 di settembre sono già con la discoteca perché andiamo a Barcellona, lo sai, ci sono l'ingresso alle discoteche abbiamo la pensione completa, un DJ famosissimo eccolo qua in persona e tanto tanto divertimento qui abbiamo anche già degli ospiti tra l'altro Eccoli qua, che ci faranno compagnia Voi siete? Olga Stefano Siete pronti per partire? Non aspettiamo altro Non aspettate altro, perfetto Allora ragazzi, noi vi ricordiamo che pignolo sto Giorgio vi ricordiamo che qui al Padova Pride Village potete venire entro venerdì di questa settimana mi raccomando, perché sono gli ultimi posti Per le prenotazioni 049 85 61399 E mi spero viaggi e vi assamonarò alla Padova Perfetto, ciao ragazzi, ciao ciao